Pocio Banega sottavo sigillo in campionato, davvero complimenti, minuto 74, brindisi colmate insieme a Nicolas Belloni, passo di tango e si è andato in porta con facilità, tra l'altro segnando col tuo piede peggiore ed è un eufemismo perché ovviamente spesso e volentieri la metti in fondo al sacco Pocio. Sì, sono molto contento della vittoria, ci voleva in questo modo, sono contento perché Nicolas ha fatto gol, ha fatto una gran partita, ha fatto un gran assist ma tutta la squadra, pure chi è entrato si vede lo spirito e questo è quello che vogliamo, lottare fino a maggio come abbiamo fatto l'anno scorso e cercare che l'esito sia diverso. Una gara completamente diversa rispetto alle altre perché a Senigallia avete fatto benissimo nella prima frazione e nella seconda siete scesi un po', oggi direi gara completa sotto tutti i punti di vista, anche atleticamente la squadra sta bene. Sì, sono d'accordo con te, è stata una partita che abbiamo cercato di mantenere quello che abbiamo fatto a Senigallia perché comunque abbiamo fatto un tempo, adesso stiamo cercando piano piano di arrivare ai 90 minuti e di fare una gara completa sotto tutti gli aspetti, fisica, mentale, tattica e tecnica. Beh, in questo momento la classifica dice questo, però noi comunque da inizio anno ci siamo preparati e dal ritiro anche con tante difficoltà che abbiamo avuto nel percorso cambiando tre mistere eccetera, comunque ci crediamo, il gruppo ci crede, mancano tantissime partite e abbiamo ad esempio subito l'anno scorso che comunque ce la siamo giocata fino alla fine e fino all'ultima partita, quindi noi ovviamente ci crediamo perché mancano tante partite, tanti scontri diretti e questo girone è molto equilibrato e anche se la San Benedetto comunque sta dando veramente il massimo, tutte le squadre possono vincere con tutti, lo vediamo in tutti gli altri campi e speriamo che anche loro facciano qualche passo in falso, però noi dobbiamo guardare noi e adesso subito testa a Chiedi che sarà una gara difficilissima. Ezequiel Banegas che si è fatto largo tra i vari giocatori perché voleva fare una dedica, prego Pociu. Sì sì, volevo dedicare questa vittoria e questo gol a mia moglie che veramente è stata una settimana difficile questa, stiamo aspettando un bambino, una bambina non sappiamo ancora, si è laureata per la seconda volta e veramente mi sostiene nei momenti difficili, è stata una settimana molto particolare per tanti aspetti che solo noi sappiamo, quindi volevo dedicare questo gol e questa vittoria a lei perché veramente c'è dietro una famiglia oltre il calciatore, quindi volevo dedicare questa vittoria a lei.